La duchessa di Sussex, è stata presa di mira da Thomas Markle Jr., in una serie di video online, mentre prende consigli dagli spettatori per trollare sua sorella. Le richieste a YouTube di bannare il fratello di Meghan Markle, sono arrivate dopo che una serie di video Vili, in cui prende in giro la duchessa di Sussex, sono apparsi online. Meghan, è stata presa di mira dal fratello Thomas Markle Jr. in una nuova campagna di abusi online, mentre la colpisce con insulti e bizzarre teorie del complotto. I politici e l'esperta reale Jenny Bond, hanno lanciato appelli affinché il gigante del web si assuma le proprie responsabilità. Riferisce il mirror, peggio ancora, Thomas Markle Jr., trae profitto dalle clip di YouTube, poiché i follower gli inviano mance in denaro per gli insulti Vili sulla moglie del principe Harry. Meghan e suo fratello sono coinvolti in una faida familiare, e, secondo quanto riferito, non si parlano da più di un decennio. L'ex corrispondente reale della BBC Jenny Bond, ha criticato le invettive sul web, che ha definito grottesche. Ha aggiunto, avere la tua stessa carne e il tuo sangue a guidare l'assalto deve sembrare il tradimento finale per Meghan. Oltre ai pagamenti elettronici da parte degli spettatori, si ritiene che Thomas Jr. intascherà anche le entrate pubblicitarie da YouTube. I video sono venuti alla luce solo poche settimane dopo che anche la principessa Kate è caduta vittima dei troll del web. Riferendosi al tormento sofferto dalla moglie del principe William, che sta combattendo contro il cancro, l'esperto reale Bond ha detto, non abbiamo imparato nulla. E sono state registrate poche settimane dopo che Meghan, aveva tenuto un discorso in cui avvertiva che i social media, sono un, ambiente pericoloso, per le donne. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.